Bentornati, pace e bene a tutti. Oggi 6 gennaio ricordiamo l'Epifania del Signore. Ascoltiamo. Epifania in greco significa manifestazione. Con questa festa la Chiesa celebra la manifestazione di Cristo a tutti i popoli, simboleggiati dai magi che gli fanno visita e gli rendono maggio portandoli in dono dell'oro, dell'incenso e della mirra. Una stella ha guidato i magi fino a Betlemme perché là scoprissero il re dei giudei che è nato e lo adorassero. Matteo dice nel suo Vangelo. Entrati nella casa videro il bambino con Maria e prostratisi lo adorarono. Il viaggio dall'Oriente, la ricerca, la stella apparsa ai magi, la vista del Salvatore e la sua adorazione costituiscono le tappe che i popoli e gli individui dovevano percorrere nel loro andare incontro al Salvatore del mondo. I magi quindi indicano la strada sulla quale camminare nella nostra vita. Essi cercavano la vera luce, come dice un inno liturgico dell'Epifania, e seguendo una luce essi ricercano la luce. Andavano alla ricerca di Dio. Visto il segno della stella lo hanno interpretato e si sono messi in cammino, hanno fatto un lungo viaggio. Dice Papa Francesco. Se siamo andati dal Signore a mani vuote, oggi possiamo rimediare. Il Vangelo riporta infatti per così dire una piccola lista regali, oro, incenso e mirra. L'oro, ritenuto l'elemento più prezioso, ricorda che a Dio va dato il primo posto, va adorato. Ma per farlo bisogna privare se stessi del primo posto e credersi bisognosi, non autosufficienti. Ecco allora l'incenso, a simboleggiare la relazione col Signore, la preghiera, che come profumo sale a Dio. Ma come l'incenso per profumare deve bruciare, così per la preghiera occorre bruciare un po' di tempo, spenderlo per il Signore, e farlo davvero, non solo a parole. A proposito di fatti, ecco la mirra, un guento che verrà utilizzato per avvolgere con amore il corpo di Gesù deposto dalla croce. Il Signore gradisce che ci prendiamo cura dei corpi provati dalla sofferenza, della sua carne più debole, di chi è rimasto indietro, di chi può solo ricevere senza dare nulla di materiale in cambio. L'esempio dei magi aiuta ad alzare lo sguardo verso la stella e a seguire i grandi desideri del cuore. Insegnano a non accontentarsi di una vita mediocre, ma a lasciarsi sempre affascinare da ciò che è buono, vero, bello, da Dio, che tutto questo lo è in modo sempre più grande. Oggi ricordiamo un momento particolare, un viaggio di tre uomini che si sono messi in cammino con l'intenzione di andare ad adorare il nuovo re, ma è facile adorare. Papa Francesco ci dice di no, ci dice che non è un fatto immediato, esige una certa maturità spirituale, essendo il punto di arrivo di un cammino interiore, a volte lungo, ricordiamo anche questo cammino, questo viaggio dei magi. Non è spontaneo in noi l'atteggiamento di adorare Dio. L'essere umano bisogno sì di adorare, ma rischia di sbagliare obiettivo. Infatti, se non adora Dio, adorerà degli idoli. Non c'è via di mezzo. Chi non adora Dio, adora il diavolo, e invece che credente diventerà idolatra. Per adorare il Signore, dice Papa Francesco, bisogna innanzitutto alzare gli occhi, come hanno fatto i magi prima di intraprendere questo cammino, hanno visto il segno di una stella. E questo vuol dire non lasciarci imprigionare da fantasmi interiori che spengono la speranza e non fare dei problemi e delle difficoltà, quelle della nostra vita, il centro della nostra esistenza. Ciò non vuol dire negare la realtà, dice il Papa, fingendo o illudendosi che tutto vada bene. Si tratta invece di guardare in modo nuovo i problemi e le angosce, sapendo che il Signore conosce le nostre situazioni difficili, il Signore ascolta attentamente le nostre invocazioni e non è indifferente alle lacrime che versiamo. Quando alziamo gli occhi a Dio, continua Papa Francesco, i problemi della nostra vita non scompaiono, ma sentiamo che il Signore ci dà la forza necessaria per affrontarli. Alzare gli occhi allora è il primo passo che dispone all'adorazione. Si tratta dell'adorazione del discepolo che ha scoperto in Dio una gioia completamente nuova, una gioia diversa. Quella del mondo è fondata sul possesso dei beni, sul successo o su altre cose simili. Invece la gioia del discepolo di Cristo trova il suo fondamento nella fedeltà in Dio, le cui promesse non vengono mai meno, a dispetto delle situazioni di crisi in cui possiamo venire a trovarci. Ecco allora che gratitudine figliai e gioia suscitano l'anelito di adorare il Signore, che è fedele e non ci lascia mai soli. Allora, come i magi, anche noi dobbiamo lasciarci istruire dal cammino della vita. Segnato da inevitabili difficoltà del viaggio, non permettiamo che le stanchezze, le cadute e i fallimenti ci gettino nello scoraggiamento. Riconoscendoli invece con umiltà, dobbiamo farne occasione per progredire verso il Signore Gesù. La vita non è una dimostrazione di abilità, di forza, dice il Papa, ma un viaggio, un viaggio verso colui che ci ama. Guardando al Signore troveremo la forza per proseguire con gioia rinnovata. Allora carissimi sorelle e fratelli, buona adorazione a tutti.